e Luigi Dell'Erba di Castellana, che discuteranno sulla seguente mozione. Questa assemblea crede che gli studenti e le famiglie devono valutare il lavoro dei docenti. Se siamo tutti pronti, io direi di dare inizio al dibattito e quindi diamo la parola al primo speaker della squadra PRO. Forse è questo insegnare, fare in modo che a ogni lezione scocchi l'ora del risveglio. Noi riteniamo che la famiglia e la scuola da sempre si trovano in un rapporto dialogico. E' quindi giusto che la famiglia e gli alunni diano un giudizio al docente. Dare un giudizio al docente significa acquisire uno sguardo più ampio per sostenere il percorso di ogni alunno. Buongiorno a tutti, io sono l'Oiacono Claudio, primo speaker della squadra PRO e oggi andrò a parlare della valutazione dei docenti. Quest'ultima deve essere associata non ad un controllo, ma al miglioramento, così da creare un rapporto di collaborazione. Il secondo speaker della mia squadra, ovvero Luca Capriati, tratterà in primo luogo la valutazione del lavoro dei docenti, al fine di sviluppare il pensiero critico degli studenti. Come seconda argomentazione analizzerà il tema della valutazione del lavoro dei docenti, al fine di creare una scuola dinamica. Il terzo speaker, Antonio Inviti, riassumerà le nostre argomentazioni, riaffermando e chiarendo nuovamente la nostra posizione. Parto ora col analizzare alcuni termini non ancora molto chiari. La parola studenti, noi la intendiamo come un soggetto. Un soggetto iscritto a un corso di studi o a una facoltà universitaria. La fascia di età è compresa dalle medie, passando agli adolescenti fino ad arrivare all'università. La famiglia, ovvero un nucleo sociale rappresentato da due o più individui che vivono nella stessa abitazione e di norma sono legati tra di loro col vincolo del matrimonio o da rapporti di parentela o di affinità. Successivamente troviamo la parola valutare. La parola valutare, noi la analizziamo come considerare i pro e i contro di una situazione, sottoposti a esame. E infine il lavoro dei docenti, che la intendiamo come trasmissione della cultura. Ho voluto esordire con la frase iniziale perché, secondo la nostra casa, l'insegnamento serve per migliorare la capacità del individuo, per prepararlo e istruirlo ad un futuro migliore. Ora passo ad argomentare la mia tesi. Parto con una premessa. I docenti svolgono un ottimo lavoro e ci aiutano tantissimo, soprattutto in questo periodo di pandemia. Vogliamo che le famiglie e gli studenti valutino i docenti al fine di stimolarli. Così facendo creeremo un clima sereno. Voglio ribadire che i docenti svolgono già bene il loro lavoro. Non vogliamo controllarli e quindi, diciamo, creare un clima teso tra le due parti. Ma bensì vogliamo stimolarli. Voglio enunciarvi principalmente... Certo, dimmi. Potreste spiegarci una metodologia secondo la quale i genitori potrebbero essere capaci di giudicare in maniera oggettiva quello che è l'operato dei docenti senza essere controllati dal bias di quello che gli viene detto dai figli? Certo, è proprio quello che stavo per andare a trattare adesso. Infatti, proprio come... Grazie per la domanda, innanzitutto. Io voglio, appunto, enunciarti anche il problema che riguarda i genitori. Infatti, appunto, i genitori, ovviamente, ai colloqui periodici programmati dalla scuola vogliono essere solo e sempre gli avvocati difensori dei figli. E infatti, appunto, quando ci arriva lo scontro chi perde di autorevolezza è sempre il docente mentre chi si frega, appunto, le mani e passa sulla ragione è il genitore con l'alunno. E spesso, appunto, si sentono molto i genitori fare i falsi moralisti uscendosene con espressioni del tipo professore le parlo da padre oppure professore le parlo da madre. E infatti con questo noi affermiamo che i docenti svolgono proprio il loro lavoro al meglio e se lo svolgono correttamente è soltanto per gli studenti e quindi per istruirli e prepararli per il futuro. I genitori, quindi, devono svolgere il proprio compito e non si devono dimenticare di invertire ruoli che gli stessi sono già molto definiti. Teniamo quindi, dunque, alla larga, padre... Certo, dimmi. Grazie. Non pensa che questi ruoli di cui sto parlando da qualche decina di secondi anche evidenti nei colloqui su quella famiglia di Luca Parlatica possano influire ancora di più e soggettivare ancora di più la valutazione dei docenti rendendola quindi solo un modo per difendere i propri figli e attaccare l'operato dei professori magari non eccellente nei confronti del proprio figlio. No, infatti noi bisogna soltanto migliorare. Noi vogliamo, appunto, creare... come dici tu, appunto, noi vogliamo creare un clima un clima equo tra le due parti noi vogliamo tenere, appunto, alla larga i genitori vogliamo che, appunto, così facendo noi creeremo, quindi, un rapporto di collaborazione un clima buono tra docenti, studenti e genitori quindi un triplice rapporto di collaborazione un clima ottimo e i docenti, appunto, in questo ottimo clima svolgeranno al meglio il proprio lavoro istruendo al meglio i propri ragazzi dall'altra parte i ragazzi e i genitori potranno quindi, diciamo, valutare ottimamente no, grazie il lavoro dei docenti in questo periodo di pandemia, appunto il rapporto di collaborazione da entrambe le parti deve essere il punto fondamentale infatti questo permette ai docenti di essere stimolati a insegnare in DAD come se fossimo in presenza gli studenti capiranno al meglio le spiegazioni dei propri docenti e avranno quindi un ottimo andamento scolastico ti vai no, grazie così facendo, quindi, otterremo un ottimo clima gli studenti non si lamenteranno con i genitori dei propri docenti e parleranno bene o parleranno ottimamente del lavoro del proprio insegnante i genitori quindi valuteranno il lavoro degli insegnanti vedendo il rendimento proficuo del figlio e infine gli studenti valuteranno al meglio il lavoro dei docenti visto il loro andamento ottimo pertanto point si verrà a creare dimmi sono passati quasi sette minuti e ancora non ci avete spiegato come avverrebbe questa valutazione potreste essere più chiari? infatti la valutazione ovviamente come ti ho già detto dovrà essere basata su questo clima questo clima questo clima deve essere un clima ottimo cioè come ti ho già spiegato prima quindi i genitori ovviamente questa affermazione che tu questa domanda che tu mi hai posto come ti ho già detto all'inizio sarà affrontata dal secondo speaker che appunto parlerà dei criteri di valutazione ma quello che io ho trattato e ti ho già spiegato all'inizio dopo che ti ho già appunto hai enunciato inizialmente è analizzare il clima equo che ci deve essere da parte dei genitori nei confronti dei docenti e nei confronti dei propri figli da parte dei studenti che come ti ho già detto quindi si deve venire a creare questo un ottimo clima gli studenti non si lamenteranno con i genitori dei propri docenti e quindi loro appunto parleranno bene del lavoro del proprio insegnante i genitori quindi valuteranno al meglio il lavoro degli insegnanti vedendo il rendimento proficuo del figlio e gli studenti valuteranno al meglio il lavoro dei docenti visto il loro andamento grazie per per l'attenzione tempo 8 minuti e 8 secondi chiedo un cenno visivo agli altri due giudici quando sono pronti grazie per l'attenzione anche se onestamente il giudice Biasi non riesco a vedere ok grazie volevo chiedere anche a Giussi Colacicco visto che porta il tempo se può aprire il microfono altrimenti il segnale acustico non lo sentiamo l'apertura dei Pioai o la chiusura dei tempi protetti non li ascoltiamo l'ho aperto però ah era aperto non mi sono accorta va bene allora scusami allora grazie all'intervento di Claudio passiamo la parola adesso al primo speaker della squadra contro Silvia buongiorno a tutti questa assemblea crede che gli studenti e le famiglie non devono valutare il lavoro dei docenti perché questa valutazione non rispecchia il vero operato di questi ultimi secondo voi perché al giorno d'oggi un insegnante insegnante per essere abilitato alla professione di insegnamento deve sostenere diversi esami di pedagogia psicologia perché secondo voi proprio per aiutare gli studenti a crescere proprio perché l'insegnante non deve solamente insegnare e trasmettere le proprie nozioni ma deve fare in modo anche di essere una figura che guida il ragazzo nella vita che gli dà le capacità per capire al meglio il mondo per non demoralizzarlo quindi la valutazione che l'insegnante dà al suo studente è una valutazione che si basa su conoscenze che genitori e i figli non hanno conoscenze degli insegnanti hanno saputo e hanno studiato nella loro vita prego senta le volevo chiedere ha parlato appunto di questa valutazione che è nei confronti dei docenti che non rispecchia l'operato e invece l'azione appunto di valutazione nei confronti dei docenti compiuta dalle invalsi cosa esiste a fare a questo punto l'azione di valutazione degli invalsi viene fatta perché vi è un divario si pensa che ci sia un divario tra le scuole e quindi lo Stato mette la valutazione degli invalsi proprio per vedere il livello degli studenti in tutta Italia in maniera oggettiva ma questa cosa non è conforme al topic perché non stiamo parlando di questo ma stiamo parlando della valutazione degli studenti e delle famiglie che fanno che dovrebbero fare ai docenti quindi questo è il mondo dove viviamo un mondo in cui gli insegnanti studiano per dare delle valutazioni e dopo aver studiato diventano effettivamente insegnanti e vengono riconosciuti e ora passo a confutare ciò che è stato detto dal primo speaker della squadra contro allora non c'è stato presentato un modello non abbiamo avuto un modello su come queste valutazioni dovrebbero avvenire se in forma anonima se invece non in forma anonima quindi dovrebbero essere inseriti nome e cognome delle persone che appunto fanno questa valutazione e quindi nella mia argomentazione andremo un po' a vedere quale modello avreste potuto inserire poi che altro è stato detto è stato detto che ci dovrebbe essere un clima eco tra le parti quindi tra professori e genitori ma questa cosa non va assolutamente bene perché come un genitore che non ha mai sostenuto esami di pedagogia non sa minimamente come valutare il proprio figlio essendo di parte potrebbe minimamente pensare di avere le stesse capacità e di essere allo stesso piano di un insegnante che ha studiato e ha dedicato anni della sua vita e anni della sua carriera per questo inoltre secondo voi la valutazione risolverebbe anche l'idea che hanno gli studenti dei propri insegnanti perché appunto gli studenti tramite questa valutazione non si lamenterebbero più degli insegnanti perché gli insegnanti all'improvviso cambierebbero in meglio il tutto quando non ci rendiamo conto che un ragazzino non può minimamente capire e valutare una persona molto più grande di lei con molta più esperienza quindi questa valutazione esattamente fatta a un insegnante quali benefici dovrebbe portare magari un ragazzino svogliato che non ha voglia di fare nulla dalla mattina alla sera come può valutare realmente il proprio insegnante esattamente come può dare un giudizio oggettivo e come quell'insegnante potrebbe minimamente accettare il giudizio che viene da questo tipo di ragazzi non c'è stata ancora fornita una spiegazione ma ora passo a presentare gli argomenti che io e la mia squadra abbiamo individuato per spiegare al meglio la mozione il primo la legittimazione della valutazione che andrò ad affrontare io il secondo la mancanza di competenza e anche di strumenti di valutazione da parte degli alunni e delle famiglie tre sono gli effetti che questa valutazione avrebbe sugli insegnanti ma passiamo a parlare della mia argomentazione per comprendere se effettivamente il voto che gli studenti genitori metterebbero all'insegnante vale davvero andiamo ad analizzare i due stakeholder che sarebbero gli studenti e i genitori in due situazioni nel caso in cui il voto fosse anonimo e nel caso in cui la votazione non fosse anonima allora analizziamo gli studenti con la votazione anonima cosa succederebbe in questo caso il caos poiché uno studente un ragazzino non trovandosi trovandosi in una situazione in cui il suo voto è completamente anonimo e farebbe in modo di mettere magari anche un voto a caso o una valutazione ancora peggiore di quella reale dell'insegnante e quindi alla fine di questo sondaggio non sarebbe minimamente utile perché si potrebbero inviare 3000 volte lo stesso sondaggio visto che è in forma anonima e non vi è tracciamento della persona che l'ha inviato e quindi questa valutazione quanto potrebbe essere mai oggettiva parliamoci chiaramente mentre nel caso in cui la valutazione fosse no grazie nel caso in cui la valutazione fosse anche minimamente non anonima secondo voi uno studente magari anche di primo superiore che deve passare altri 4 anni con il suo insegnante potrebbe mai dare un giudizio anche per assurdo giusto quindi magari dare anche una valutazione bassa quindi al suo insegnante considerando che poi ci sarebbero delle ripercussioni molto forti nella sua carriera scolastica in quel caso lo studente come agirebbe metterebbe un voto per il suo tornaconto personale quindi per non inimicarsi il suo insegnante o metterebbe il voto reale che in realtà pensa che quell'insegnante valga sicuramente sceglierà la prima per appunto evitare di avere problemi con il suo insegnante andiamo ad analizzare dal punto di vista dei genitori i genitori nella forma non anonima non darebbero mai una valutazione negativa all'insegnante del proprio figlio proprio per non fare avere queste ripercussioni per non fare avere queste ripercussioni sul loro figlio perché l'insegnante questa valutazione se la ricorderebbe e quindi il genitore giustamente sarebbe accomodante nei confronti dell'insegnante mentre nel caso dei genitori che dovrebbero praticamente giudicare in forma anonima magari darebbero anche un giudizio secondo voi oggettivo ma rendiamoci conto che i genitori guardano il tutto da un punto di vista che è quello dei figli i genitori non hanno altri punti di vista vi è solamente quello del loro figlio loro si basano esclusivamente su quello che il loro figlio riferisce costantemente non hanno un quadro chiaro della situazione come possono valutare una situazione perché valutazione significa appunto perché valutazione significa dare un voto dare un giudizio quindi come possono persone che non hanno minimamente la concezione dal punto di vista del professore capire e dare un giudizio oggettivo un giudizio senato e basato su fatti ed è per questo che noi crediamo fermamente che gli studenti e le famiglie non devono minimamente valutare il lavoro dei docenti perché questa valutazione non rispecchia il vero operato di questi ultimi grazie tempo 8 minuti e 27 secondi ringraziamo Silvia e diamo la parola al secondo speaker della squadra pro Luca la ringrazio per la parola sono il secondo speaker della casa pro partirei subito confutando e portando l'attenzione dei giudici ma soprattutto cercando di cambiare un attimo quella che è la prospettiva della casa contro parlano sempre della scuola in questa maniera hanno parlato di caos hanno parlato di anonimia di voti in maniera anonima della quale noi non abbiamo parlato ma che entrerò a riguardo nello specifico ora hanno appunto questa visione pessima oppressiva della scuola come se fosse un nemico parlano sempre anche delle figure del docente e dello studente come se fossero due figure avverse beh se iniziamo questo percorso questa discussione avendo presente questa situazione beh non andremo da nessuna parte anche per quanto riguarda il futuro non è la maniera giusta di approcciarsi alla situazione con questo cosa voglio dire noi vogliamo appunto portarvi verso questo tipo di prospettiva no grazie e diciamo smuovervi da questa visione così come dire avversa nei confronti nei confronti appunto della scuola avete parlato di studenti famiglie e studenti famiglie e docenti come figure molto lontane quando noi invece vogliamo questo percorso che li avvicini le rafforzino un rapporto di collaborazione avete parlato che noi abbiamo presentato un modello di valutazione e ci arriveremo perché per esempio ve ne parlerò con parlerò a riguardo con la terza argomentazione ovvero valutare il lavoro dei docenti al fine di creare una scuola dinamica noi vogliamo smuovere questa visione della scuola questa scuola statica noi vogliamo avvicinare le figure avvicinare le famiglie e creare dei soggetti pronti al futuro di noi prego grazie non crede che parole sue la nostra maniera scorretta di approcciarci alla situazione sia dovuta al fatto che in dieci minuti di discorso da parte della vostra squadra ancora non ci è stato presentato un modello valido quanto sarebbe dovuta essere la prima accusa perché noi di conseguenza ci muoviamo la ringrazio per l'assist infatti ci arrivo subito appunto una corretta valutazione come può essere svolta è stato presentato dalla prima speaker appunto ha parlato di voti in forma anonima ha parlato appunto di caos e così via allora innanzitutto deve essere una valutazione soprattutto per quanto riguarda le famiglie che visto il rapporto di collaborazione visto l'avvicinamento delle controparti le famiglie per esempio avranno una visione più ampia rispetto a quella fornita dalla prima speaker perché? perché si si approcceranno con i professori approcceranno con gli studenti e se noi andiamo sempre con queste premesse negative che è il genitore deve difendere il figlio no perché il genitore se vuole un figlio che un domani sia possa vivere in una realtà contemporanea che è sempre no grazie che è sempre in continua evoluzione per il bene del figlio cercherà appunto di avere una visione più ampia e di non dargli sempre sempre ragione non vogliamo avete parlato in maniera come se noi volessimo sminuire la figura del docente quando invece è stata fatta una chiarissima premessa soprattutto nel periodo che stiamo affrontando i docenti sono una figura fondamentale e noi vogliamo aiutarli e in più vogliamo aiutare anche gli studenti e smuoverli non avere una figura passiva ma creare uno studente più attivo uno studente più invogliato uno studente magari pronto già per quello che è il futuro parto subito con la mia argomentazione prego qua sto citando le parole del suo primo speaker quando dice che il modo migliore per creare questa cooperazione è citando proprio le sue parole allontanare gli insegnanti dalle famiglie non crede che questo modo di collaborazione vada in contrasto con quello che la vostra squadra ha continuato a ripetere fin da inizio forse non ha forse non ha colto non ha colto il messaggio allontanarli nel senso che non devono mettersi sempre dalla parte dei figli allontanarli in questo modo ma avvicinarli invece in un rapporto di collaborazione ecco cosa intendeva forse non è non è riuscito a cogliere bene e ci scusiamo se non non siamo stati abbastanza chiari ecco partirei con le mie argomentazioni la prima appunto valutare il lavoro dei docenti per sviluppare un senso critico negli negli studenti questo senso critico è assolutamente è assolutamente importante per una società futura magari potremmo avere dei riscontri in questo anche nel breve nel breve medio termine magari si potrebbe abbassare anche l'età del diritto al voto o magari l'età per conseguire la patente fino a qualche tempo fa in America già a 16 anni potevano prendere la patente in un'epoca in cui anche un singolo no grazie dove anche un singolo secondo è importante dove bisogna andare sempre si va sempre di fretta essere indietro di due anni beh è abbastanza è abbastanza importante magari potrebbe migliorare anche questo miglioramento del senso critico potrebbe magari anche migliorare quella che è la società futura magari la politica ma soprattutto accrescerli culturalmente quindi elevare anche la scuola magari stimolare noi proprio questo intendiamo stimolare sia docenti sia professori sia docenti sia studenti in un processo appunto di crescita di rinnovare le tecniche di apprendimento di crescita di essere al passo con i tempi ma soprattutto un punto fondamentale che è un lato positivo potrebbe essere appunto quello della consapevolezza una consapevolezza appunto anche delle proprie debolezze e dei propri dei propri dei propri limiti per quanto riguarda appunto il criterio invece di la situazione no grazie per quanto riguarda la maniera di valutazione e così arrivo alla mia terza argomentazione ovvero valutare il lavoro dei docenti al fine di creare una scuola di nanca con questo che cosa vogliamo intendere creare delle valutazioni avere queste valutazioni appunto come proprio hanno i docenti hanno dei criteri hanno dei criteri per i compiti di italiano l'ortografia la coerenza con avere delle vere proprie domande magari come torna il proprio castorna contento vogliono vedere una scuola dinamica che cosa intendiamo intendiamo questo però magari ricercare in questo modo una smuovere appunto le normali classi e magari permettere agli studenti in base a queste valutazioni assieme alle famiglie di trovare dei docenti più affini alle proprie caratteristiche e invogliare ancora di più così lo studente ad avvicinarsi alla materia a innamorarsi ad avere cura e amore per lo studio e così avremo una società assolutamente pronta e responsabile e questo è il nostro obiettivo vogliamo essere al passo col tempo vogliamo portare la scuola a un livello superiore una scuola dinamica non statica delle controparti che si avvicinino non che si allontanano così magari potremmo avere anche le stesse graduazioni per i docenti potremmo avere una scuola più meritocratica certo non deve sfociare assolutamente nell'anarchia chiariamo questo non vogliamo assolutamente questo ovvero che ognuno fa come vuole ovviamente la supervisione magari del dirigente o di proprio dei supervisori incaricati riguardo queste valutazioni queste situazioni l'anarchia non è proprio ciò che vogliamo anzi vogliamo un paese questo è sempre finalizzato ad avere un paese al passo con i tempi democratico meritocratico noi vogliamo le cose giuste e al passo con i tempi ecco perché ci tengo a ribadire che questa assemblea crede appunto che gli studenti e le famiglie debbano valutare il lavoro dei docenti al fine di migliorare quella che è la situazione scolastica ma anche per un futuro migliore e rossio vi ringrazio per l'attenzione tempo 8 minuti e 18 secondi bene ringraziamo Luca e diamo la parola al secondo speaker della squadra contro Giacomo Gli studenti e le famiglie non devono valutare il lavoro dei docenti perché questa valutazione non rispecchia il vero operato di questi ultimi buongiorno a tutti buongiorno cari giudici buongiorno agli avversari è questo ciò che io e la mia squadra sosteniamo fin dall'inizio sosteniamo fortemente e ora vi faremo capire ancora di più perché però prima di presentare i miei due argomenti ineccepibilmente anticipati dalla prima speaker Silvia vorrei confutare tutto ciò che è stato finora detto dalla squadra pro noi non condividiamo una singola cosa delle epoche che ci hanno portato sì perché loro parlano di futuro migliore ma per la squadra pro un futuro migliore è avere i professori come su una classifica di Spotify in cui quelli che stanno più in alto sono i professori migliori amati dagli studenti un po' come le hit di Sanremo che stiamo ascoltando in questi giorni quelli che tutti vogliono i professori che stanno più in basso nella classifica sono quelli che non piacciono agli studenti perché magari sono quelli più severi e quelli che veramente incarnano più ai nozioni no grazie le nozioni di pedagogia che tutti i professori hanno ovviamente conseguito ma proseguendo nella confutazione loro la squadra avversaria ha affermato che il nostro approccio alla situazione è completamente sbagliato bene se loro ci avessero presentato il modello noi probabilmente ci saremmo mossi di conseguenza ma ad ora dopo ben 4 interventi e 20 minuti di discorso ancora non abbiamo capito come questa valutazione dovrebbe avvenire la prima speaker Silvia è stata impeccabile ha spiegato che tutte le modalità questo l'avreste dovuto fare voi di valutazione sono sbagliate sia la modalità anonima che la modalità non anonima e quindi qual è il vostro modello cioè questa valutazione come avverrebbe ve lo ripetiamo un'altra volta in quanto questo è il cuore il modello è il cuore di un topic di tipo policy come quello su cui siamo animatamente dibattendo quindi attendiamo con molta attesa il vostro modello sperando nel terzo intervento della squadra pro bene ora proseguo con i due argomenti partiamo dal primo una valutazione del genere non rispecchia il vero operato dei docenti quali competenze e strumenti di valutazione oggettivi posseggono studenti e genitori l'ha accennato prima Silvia ma analizziamo i due stakeholders studenti e genitori uno per volta partiamo proprio con gli studenti studenti che a differenza dei docenti ovviamente non hanno studiato pedagogia e non conoscono le buone norme e comportamenti corretti che gli insegnanti devono seguire quando prendono per mano gli studenti ci piace molto questa immagina perché i professori prendono per mano gli studenti e li accompagnano non solo nel viaggio alla scoperta della disciplina che insegnano ma un viaggio alla scoperta della vita sì perché noi a differenza della squadra pro che è promotrice di un insegnamento solo delle discipline le loro stesse le definizioni dicono questo in quanto affermano che gli insegnanti trasmettono la cultura ebbene no noi non siamo completamente d'accordo sì perché il ruolo dei docenti non è solo un ruolo per far apprendere agli studenti le nozioni di una disciplina ma è aggiungerei soprattutto un ruolo educativo educazione significa prego non tutti gli studenti studiano pedagogia come esame da superare non tutti i docenti studiano pedagogia come esame da superare per diventare professori non tutti studiano delle materie umanitarie sì ma non tutti studiano pedagogia e quindi secondo lei al giorno d'oggi nelle scuole vengono prese le prime persone che non hanno neanche superato o almeno fatto un corso di formazione in merito alla pedagogia e come accompagnare gli studenti cioè vengono prese le prime persone che passano per strada ad accompagnare degli studenti nel proprio percorso di crescita ebbene non ci sembra alquanto reale questa situazione dicevamo che il ruolo dei docenti non è solo quello di istruire ragazzi e di far conoscere loro il mondo sotto l'aspetto delle nozioni della loro disciplina che insegnano ma soprattutto il ruolo educativo educazione stavo concludendo significa tirar fuori il bello che c'è all'interno delle persone all'interno degli studenti come gli studenti possono capire le modalità con cui gli insegnanti cercano di tirar fuori il meglio che c'è all'interno di loro stessi facciamo un esempio immaginiamo un docente che sgrida uno studente una situazione in cui un po' tutti ci siamo trovati nei diversi anni del nostro cammino scolastico ebbene secondo voi lo studente riesce a capire perché quel professore lo ha sgridato ha questa capacità di cogliere che il professore lo fa solo per il suo bene non ci sembra proprio no grazie reale questa situazione e invece secondo punto per quanto riguarda i genitori bene il discorso è lo stesso che vale per gli studenti nella maggior parte dei casi potrebbero esserci anche dei genitori insegnanti che quindi conoscono le buone norme per accompagnare per prendere per mano lo ripetiamo gli studenti accompagnare nel viaggio della vita ma entra in gioco un'altra componente fondamentale cioè c'è uno strumento di valutazione oggettivo con cui i genitori possono esprimere un parere sull'operato dei docenti noi sosteniamo fortemente di no non c'è non c'è perché i genitori non guardano con i loro occhi ciò che avviene in classe ma guardano con gli occhi dei propri figli con i racconti dei propri figli ciò che avviene sarebbe una valutazione mi verrebbe di dire di luce riflessa cioè fortemente condizionata dai racconti dei propri figli che ovviamente trascorrono il tempo in classe con i docenti quindi secondo voi questo tipo di valutazione che probabilmente forse proponete perché ancora non abbiamo capito che tipo di valutazione proponete è la cosa più giusta poi per non parlare di quanto l'aspetto della vita privata dei docenti possa influenzare negativamente la valutazione da parte dei genitori quante volte ci sono state polemiche da parte delle famiglie per alcuni aspetti della vita privata dei docenti non è più vecchia di qualche mese fa la notizia che abbiamo ascoltato un po' tutti di una maestra protagonista di un tremendo episodio di Reverend Gipor che ha fortemente condizionato la sua carriera professionale ebbene questa valutazione non farebbe altro che mischiare intrecciare indissolubilmente ancora di più la vita lavorativa e la vita professionale degli studenti che dovrebbero rimanere completamente separate la valutazione è un grave danno anche per quanto riguarda questo aspetto procedo con il mio secondo argomento anticipato perfettamente da Silvia cioè che queste valutazioni sortiranno più che negativi sul lavoro degli insegnanti insegnanti che vivranno con la pressione addosso infatti quale insegnante avrebbe voglia di essere giudicato negativamente farebbero di tutto per cercare di fare i buoni con gli studenti e dunque andrebbe a svanire l'imparzialità l'oggettività e la professionalità che una figura educativa importante come quella di docenti dovrebbe incarnare gli insegnanti non sarebbero spronati a fare di meglio non sarebbero spronati a diventare degli insegnanti più buoni non degli insegnanti più buoni ma semplicemente a diventare più buoni più belli con i propri studenti perché poi ovviamente la valutazione potrebbe andare e andrà sicuramente al loro favore dunque ci sarebbero insegnanti non più insegnanti vi spiace dirlo ma il mondo proposto dalla squadra pro è il mondo in cui il ruolo degli insegnanti verrebbe snaturato e noi non vogliamo arrivare a questo ecco perché sosteniamo e continuiamo a farlo che gli studenti e le famiglie non devono valutare il lavoro dei docenti perché questa valutazione non rispecchia il vero operato di questi ultimi grazie per l'attenzione tempo 8 minuti e 20 secondi grazie Giacomo diamo adesso la parola al terzo speaker della squadra pro Antonio la ringrazio per avermi dato la parola buongiorno sono Antonio Inviti il terzo speaker della squadra a favore beh innanzitutto vorrei riprendere il topic un attimo questa assemblea crede che gli studenti e le famiglie devono valutare il lavoro dei docenti beh il topic ci chiede che se siamo a favore o contro di valutare il lavoro dei docenti non cita alcun modello da portare non ci dice di portare un modello quindi questo amato questo vostro amato modello da portare non è citato nel topic e non ci ha spiegato anche cosa intende per modello perché voglio di nuovo ripetere che per adesso il topic non ha citato nessun modello ha citato solamente se noi siamo a favore di portare di valutare i docenti questo modello non è stato per niente citato nel topic ma detto questo vorrei confutare quanto detto anche dal primo speaker ossia point mi dica allora per modello intendiamo una nozione fondamentale del debate come voi proponete di far valutare il lavoro dei docenti è questo ciò che noi chiediamo dall'inizio ma che voi continuate a trascurare ed è il cuore del dibattito che stiamo portando avanti beh riprendo dicendo che la posizione nostra è quella di migliorare quell'operato dei docenti e quanto detto dal topic vede anche il miglioramento cosa porta nel senso se siamo a favore comunque di valutare per sviluppare così un miglioramento non ci chiede di quale modello portare così da poter valutare i docenti non ci chiede quale modello portereste per valutare i docenti ma ci chiede solamente se siamo a favore di valutare il lavoro dei docenti poi il primo speaker l'ha anche spiegato senza che noi abbiamo portato alcun modello quindi tutto questo andrebbe al massimo a vantaggio nostro un attimo mi sentite ok in più vorrei confutare anche quanto detto dal primo speaker ossia il caos che si creerebbe per esempio portando questo criterio di valutazione anonima da noi non citato anche oppure portare questo criterio di valutazione con i nomi beh vorrei dire che questi criteri sono solamente delle teorie soggettive non sono affermate da nessuno studio nessuno studio ha confermato queste cose quindi sono solamente delle teorie soggettive non sono delle teorie oggettive per me non potrebbe essere così per la persona lì fuori non potrebbe essere così voglio di nuovo affermare che queste sono solamente delle teorie soggettive invece noi stiamo portando delle teorie oggettive come il miglioramento come per esempio i criteri di valutazione che potrebbero migliorare quel punto in più voglio riprendere una cosa detta dal secondo speaker ossia quella classifica di Spotify per esempio da lui citata beh il nostro obiettivo è quello di migliorare questo rapporto, di migliorare il rapporto, perché voglio di nuovo fare questa premessa il lavoro svolto dai docenti, voglio dire che viene svolto egregiamente, solamente che con queste valutazioni ci sarà svolto un lavoro migliore, in quanto ci sarà questo miglioramento non intendiamo screditare alcun docente, non intendiamo fare una classifica generale mettere al primo posto il docente X e mettere all'ultimo posto il docente Y adesso voglio riprendere comunque quanto detto dei nostri speaker allora il primo speaker ha per esempio citato questi miglioramenti che ci saranno a livelli di rapporti beh, sì con questi criteri di valutazione al massimo ci saranno i miglioramenti a livello di rapporti tra famiglie e docenti e riprendendo anche quanto detto dal secondo speaker voglio soffermarmi su questo argomento ossia ogni persona è diversa dall'altra ogni studente è diverso dall'altro anche i docenti sono uno diverso dall'altro per questo posso mi dica ma i risultati di questa valutazione di cui voi tanto parlate a chi sarebbero noti dove verrebbero pubblicati non c'è stato spiegato il come il quando il perché ripeto dicendo che il topic non chiede il metodo il topic chiede solamente se siamo a favore di portare queste valutazioni io rimango sempre fermo su quello che chiede il topic in più voglio riprendere come detto quello detto dal secondo speaker ossia che gli studenti non sono tutti uguali lo stesso i professori quindi ci potrebbero essere studenti che hanno per esempio dei comportamenti simili a determinati professori e quindi si potrebbero trovare meglio con questi determinati professori e quindi questa classifica non è che sarà determinata al primo posto il professore è più simpatico ma all'ultimo posto il professore è meno simpatico ma sarà determinata in base al primo posto metteremo il professore che avrà dei comportamenti che con i docenti saranno migliori e all'ultimo posto al massimo ci sarà quel docente che si troverà bene con altri mi dica quindi al primo posto metteremo i docenti che si snatureranno snatureranno il loro ruolo per essere belli bravi e teneri con gli studenti in modo tale che possano valutarli nel modo più corretto e migliore no io intendo dire che abbia non abbia dei comportamenti del tutto uguali ma abbia dei comportamenti che a lui per esempio piacciono perché se un alunno per esempio è timido non amerà il professore che per esempio li urla contro o quant'altro per quello e in più voglio dire che questa diversificazione comunque degli alunni e dei docenti è alquanto normale noi non siamo dei robot non siamo delle persone tutte uguali quindi è normale che ci sono persone che hanno dei comportamenti in un certo modo e docenti che hanno dei comportamenti in un certo modo e che devono essere però più abbinati in più voglio riportare anche quanto detto dal secondo speaker ossia che portare questi criteri di valutazione quindi di valutare i professori da parte degli studenti da parte delle famiglie svilupperà il pensiero critico all'interno della società soprattutto degli studenti questo mi dica voi prima ci avete detto che non abbiamo prove per dire quello che stiamo dicendo e voi avete prove per dimostrare che questo comporterà un senso critico un maggior senso critico beh voglio dire che iniziando con una valutazione sin da piccoli sicuramente almeno un po' il pensiero più critico si svilupperà all'interno dei soggetti è quasi sicuro e in più voglio dire che innalzando questo pensiero critico all'interno dei soggetti possiamo dire che in un futuro questi soggetti avranno sviluppato il loro pensiero critico fin da giovani potrà per esempio conseguire un abbassamento dell'età del diritto al voto perché gli studenti saranno per esempio capaci già dai 15 ai 16 anni di decidere di prendere delle scelte in quanto fin da piccoli fin dall'età di 10 anni 11 anni avranno già imparato a valutare avranno già imparato a valutare un professore e quindi sviluppare il proprio pensiero critico in più voglio riprendere dicendo che con queste con questi metodi comunque di valutazione questo servirà soltanto a migliorare l'operato svolto dei professori che ripeto viene già svolto egregiamente ma con questo metodo di valutazione sarà svolto ancora meglio ancora ci saranno sempre più lati positivi perché il docente migliorandosi potrà avere più conoscenze a livello tecnologico e allo stesso tempo in questo periodo conoscenze per esempio a livello tecnologico servono molto quindi questo sarebbe solamente a migliorare l'operato già svolto egregiamente da parte dei professori e non a screditare i professori e a fare una classifica mettendo all'ultimo posto il professore più severo con questo concludo e passo la parola tempo 8 minuti e 52 secondi grazie grazie Antonio passiamo adesso la parola al terzo speaker della squadra contro Daniele buongiorno a tutti giudici squadra avversaria io come terzo speaker della squadra di computazione dovrei fare principalmente un insieme di computazione e ricostruzione di quello che è stato detto durante il corso del dibattito ma a causa di quello che è successo durante il percorso di questo dibattito stesso ritengo che sia necessario iniziare con un minimo di analisi della mozione in quanto la squadra avversaria ha tradito quelli che sono le regole fondamentali del modello con cui stiamo dibattendo nel modello world school debate ci sono tre tipi di mozione quella che noi oggi stiamo discutendo è una policy all'interno di una policy la squadra di governo deve avere il compito di portarci una spiegazione del modo per mezzo del quale loro sono intenzionati ad applicare quello che vogliono dimostrare quello che loro oggi ci avrebbero dovuto dire quello che il primo speaker avrebbe dovuto dire è quello che noi come squadra d'opposizione ci stiamo chiedendo dal primo momento è come lo volete fare non vi preoccupate a questa domanda c'è una risposta molto semplice e ve l'ha presentata la prima speaker della mia squadra ebbene non si può perché come vi abbiamo dimostrato non è possibile permettere una rappresentazione oggettiva della valutazione di quello che ha fatto un docente dell'insegnamento della materia stessa di quello che ha fatto un docente durante il corso dell'anno sia se stiamo parlando di studente e sia se stiamo parlando di docente poi scusatemi avrei prima di iniziare con la confutazione un attimo di dubbi su alcune affermazioni che ritengo contrastanti da quello che è stato detto rispetto al primo speaker della squadra e quello che ha detto il terzo e secondo speaker della squadra infatti il primo speaker della squadra avversaria ha indicato chiaramente che per insegnare si tende il passaggio della conoscenza il passaggio dei valori quell'insieme quindi il passaggio dell'istruzione mentre il secondo e il terzo speaker hanno detto no ma noi vogliamo far giudicare gli insegnanti vogliamo far giudicare i genitori per mezzo di una per mezzo di un giudizio più valoriale come ti senti come sei stato bene questa è l'unica cosa che abbiamo ricevuto come modello e va in contrasto con quello che il primo speaker nelle sue stesse definizioni ha detto prima quindi non solo non ci hanno portato un modello vero perché non è applicabile non ci hanno portato delle leggi come lo applichi prima della valutazione dopo la valutazione a fine anno ogni anno ogni due tre quattro cinque anni non lo sappiamo non ci è stato detto oppure cosa facciamo va bene per fare questo per capire e per riprendere quello che è stato detto all'interno del nostro dibattito voglio dividere il mio speech in tre stakeholder fondamentali gli studenti gli insegnanti e i genitori per capire come nessuno di questi tre stakeholder beneficerebbe in questo modo sì prego avete parlato insomma di una nostra sorta di inquarenza per il fatto del primo speaker che aveva detto di allontanare famiglie e studenti famiglie ed otteni e invece ho parlato di avvicinarli e invece lì che parla di tre stakeholders quando il suo secondo speaker ha parlato di due stakeholders chiederei un chiarimento per il cortesimo assolutamente il mio secondo speaker ha detto chiaramente che prima ha analizzato i due stakeholders dicendolo in maniera diretta quindi analizzo i genitori e analizzo gli studenti però poi come è stato fatto a notare dal primo e dal secondo speaker della mia squadra vi è un altro stakeholder da analizzare un'altra persona la terza argomentazione del secondo speaker della mia squadra era basata unicamente sul terzo stakeholder ovvero quello dell'insegnante quindi cosa che come sarebbe a dire che non ci sono questi stakeholder da analizzare la nostra squadra l'ha fatto chiaramente l'ha fatta al 100% e ora io la voglio riprendere iniziamo analizzando lo stakeholder quindi la figura dello studente facciamo finta quindi giusto perché non ci è stata data una motivazione dalla squadra avversaria che vi sia una valutazione in cui si tenga traccia dello studente che effettivamente lo utilizza dello studente che lavori dello studente che mette il voto ebbene io studente che voto metterei secondo voi metterei un voto per aggraziarmi il professore o metterei un voto onesto la squadra avversaria ha provato a confutarci questo dicendo eh ma non tutti gli studenti fanno questo ci sono degli studenti che effettivamente metterebbero il voto corretto ok ma se la nostra confutazione per funzionare ha bisogno di dimostrare che vi è anche una parte anche il 30% il 40% degli studenti che non voterebbero in maniera corretta il vostro modello per anche solo lontanamente funzionare richiede che il 100% degli studenti votino in maniera coerente cosa che come vi abbiamo dimostrato è un qualcosa di totalmente impossibile la squadra avversaria quindi ci propone un modello secondo il quale lo studente imparando a votare secondo quelle che sono le sue necessità e non secondo quello che veramente hanno imparato durante l'anno potrebbero diventare i più bravi giudicatori potrebbero diventare delle persone migliori ebbene come io e la mia squadra vi abbiamo dimostrato questa cosa non ha assolutamente senso nell'attuazione pratica di quello che viene fatto non solo sul come ma anche sul come voterebbe lo studente che voto metterebbe lo studente poi chiaramente non ci hanno parlato non sappiamo neanche se la valutazione sia in voti quindi si può mettere sul numero da 0 a 10 si possa mettere magari anche un giudizio perché lì la situazione diventerebbe veramente ancora più caotica diventerebbe veramente inaccettabile e questo era il primo stakeholder andiamo ad analizzare il secondo stakeholder ovvero quello degli insegnanti stakeholder che ha correttamente analizzato il secondo speaker della mia squadra nell'ultima argomentazione ovvero io mi chiedo la squadra avversaria ci dice beh un insegnante verrebbe valutato per il suo comportamento per le sue azioni quindi non verrebbe valutato per mezzo di quello che ha insegnato o sbaglio o se valuta anche per quello secondo voi uno studente che ha preso due che però magari più ai sì prego ma non crede che con questo vostro modo di approcciarvi a quella che è appunto la scuola questo sempre modo negativo non permetta appunto una crescita ed ecco perché voi siete così fermi su questo giudizio che vada solo per i propri interessi ok ho capito capito questo argomento lo dimostro con il testo stakeholder che dato che mi è stato chiesto lo porto direttamente in ballo qui andremo a riprendere il secondo stakeholder o quello dei genitori secondo la squadra avversaria quello che è la valutazione sarebbe una bacchetta magica capace di poter risolvere qualunque problema quindi per mezzo di questa valutazione i genitori valuterebbero in maniera oggettiva non gli interesserebbe niente non gli interesserebbe di difendere i propri figli ma anzi per mezzo della valutazione queste sono le loro stesse parole il genitore sarebbe capace di valutare in maniera oggettiva scusate qualche prova qualche prova oggettiva che se messi di fronte un pezzo di carta in cui devono mettere una X il genitore che l'anno scorso perché questa è una notizia solamente di un anno fa è entrato a scuola e ha picchiato il preside perché il figlio ha preso un'insufficienza messo di fronte a questa prova il genitore direbbe ah no ok dato che c'è questo pezzo di carta che mi dice di mettere 010 allora faccio il bravo ragazzo ed evito di difendere mio figlio sempre a spada tratta beh questo è quello che ci hanno proposto i membri della squadra avversaria quindi un modello non ci hanno spiegato no grazie perché non ci ho accettato i due non solo che ci hanno spiegato non ci hanno spiegato il come ma hanno dato per assunto che per mezzo di questa valutazione tutto si risolve è tutto perfetto poi vorrei chiaramente riprendere lo stakeholder degli più ai no grazie perché siamo nel minuto protetto e non si può fare domanda nel minuto protetto vorrei riprendere quello che è il secondo il secondo argomento la seconda parte del mio discorso ovvero quella inerente agli insegnanti perché mentre alla fine del secondo speech della squadra avversaria è stato detto magari facendo una graduatoria meritocratica degli insegnanti da quello che come vi abbiamo dimostrato si comporta meglio con i ragazzi non quello che insegna meglio ma quello che si fa piacere di più con i ragazzi e quello che fa piacere di meno il terzo speaker della squadra ha detto no noi non faremo mai una graduatoria quindi è un'altra contraddizione con quello che è stato detto tra il secondo e il terzo speaker della squadra avversaria quindi loro in sintesi oggi cosa ci hanno proposto e cosa invece vi abbiamo proposto noi beh noi vi abbiamo proposto un'analisi completa di tutti quelli che sono gli enti che partecipano all'interno di questo dibattito come è stato portato nelle nostre organizzazioni insegnanti giunitori e studenti loro non ci hanno proposto niente e con questo concludo il mio speech grazie per l'attenzione tempo 8 minuti e 9 secondi grazie bene con questo intervento si è conclusa la parte costruttiva del dibattito diamo adesso la parola alla seconda parte e quindi alle repliche alle ringhe finali comincia Luca no non c'è volevo dimmi volevo solamente dirle che io sento il ritardo il minuto perché sto avendo problemi di connessione quindi lo sento dopo ho capito va bene per un minuto voglio dire non influisce non pesa anche se dovessi sforare di un minuto non succede nulla non ti preoccupare quindi come dicevo diamo la parola alla replica contro ovvero a Giacomo gli studenti e le famiglie riparto da qui non devono valutare il lavoro dei docenti perché questa valutazione non rispecchia il vero operato di questi ultimi buongiorno nuovamente questo è ciò che abbiamo sostenuto fin dall'inizio e stiamo continuando a fare fortemente nel ruolo di replica adesso andrò a ripercorrere quali sono stati i punti di scontro a dir la verità pochi perché purtroppo dobbiamo renderci consapevoli che le due squadre hanno lavorato per conto proprio cioè non c'è stato mai un vero punto d'incontro in quanto nonostante le continue sollecitazioni da parte nostra alla squadra avversaria di presentare un modello lo riprenderò fra poco questo discorso loro hanno continuato a sostenere che questo non andava fatto quando è evidente che alla base di un topic del genere di una mozione simile ci vuole un modello con cui andare a sostenere tutte le come dire gli argomenti astratti che la squadra avversaria ha portato perché non si parla di argomenti concreti si parla di argomenti astratti basati su un modello inesistente quindi basati purtroppo sul nulla ma partiamo dal primo dei tre punti di scontro che io e il mio team abbiamo individuato in particolare analizzeremo i mondi valoriali delle due squadre il loro è un mondo bello apparentemente bello un futuro migliore propongono di realizzare ma stiamo parlando seriamente un futuro migliore che andrebbe ottenuto anche facendo giudicare i ragazzi facendo giudicare ai ragazzi i professori come si sono comportati questo potrebbe addirittura anticipare le votazioni e il conseguimento della patente oltre a essere fuori topic questo discorso ci sembra anche fuori luogo fuori contesto e non adatto loro inoltre nel loro mondo ci sarebbero dei professori che si comportano bene quindi in cima alla classifica similar spotify delle canzoni che hanno più successo magari i professori di educazione fisica mi viene da pensare quelli che generalmente stando un po' più simpatici diciamo facciamo un come dire uno stereotipo comune quelli più bravi quelli che fanno divertire di più ragazzi perché si va in palestra veramente i professori più rigidi più severi ma che fanno veramente bene il loro dovere purtroppo saranno le hit che non ascolta nessuno hit ovviamente fra virgolette mondo valoriale nostro è un mondo reale la situazione di adesso va più che bene perché ciò che la squadra pro ha proposto o meglio avrebbe dovuto proporre non va assolutamente bene e ve l'abbiamo dimostrato fin dal primo istante passiamo al secondo punto di scontro cioè il modello il modello che è la fondamenta sono le fondamenta dell'abitazione che è il nostro grande discorso che è fondamentale per costruire poi i muri gli argomenti che si vanno a sostenere bene le fondamenta non c'erano nella parte della squadra però mancava il modello e l'abbiamo evidenziato fin dall'inizio ma mancavano anche i muri mancavano anche gli argomenti perché senza modello ovviamente tutto ciò che si dice rimane campato in aria terzo e ultimo punto di scontro gli stakeholders questa provocazione questo attacco da parte della squadra avversaria aggiunto durante i terzi interventi secondo cui non abbiamo analizzato correttamente i tre stakeholders ebbene no le abbiamo analizzati forse fin troppo bene in quanto soprattutto negli interventi costrutti di mio e di Silvia abbiamo fatto una bella distinzione su ciò che accade agli studenti che non hanno le competenze a ciò che accade ai genitori che non hanno le competenze negli strumenti di valutazione oggettivi per valutare appunto ciò che i docenti svolgono e come si comportano in classe e soprattutto ciò che forse non è arrivato alle orecchie dei nostri avversari come si comporterebbero di conseguenza gli insegnanti messi all'angolino e costretti a comportarsi bene per rimanere light nella classifica Spotify fra virgolette dei professori più belli ecco perché io e la mia squadra continuiamo a sostenere che gli studenti e le famiglie non devono valutare il lavoro dei docenti perché questa valutazione non rispecchia il vero operato dei docenti andrebbe snaturata secondo la squadra pro la scuola verrebbero snaturato il ruolo la professionalità e l'operato dei docenti grazie per l'ascolto tempo 4 minuti e 30 secondi diamo adesso la parola alla ringa della squadra pro che sarà portata avanti da Luca la ringrazio nuovamente per la parola e prima di procedere con quelli che sono i point of clash tenderei ad analizzare degli altri situazioni dove ci sono stati appunto forse siamo stati poco chiari o forse non ed è per questo che forse non sono riusciti bene a cogliere la squadra contro riguardo per esempio il senso critico loro dicevano in base a cosa voi siete capaci di definire che il senso critico potrebbe crescere nel corso degli anni beh avete parlato tanto di pedagogia di studi e così via questo è il compito appunto della pedagogia sperimentale avete accusato la nostra mancanza di modello la nostra mancanza di tesi che andassero appunto a sostenere quello che è il topic ma le vostre argomentazioni ci sono state poco chiare e non siamo stati forse per nostra colpa non vi so dire non siamo stati in grado di cogliere ecco perché forse questo è stato mascherato da questo tono un po' un po' saccente che porteria l'attenzione per quanto riguarda il modello torno a ribadirlo forse visto che non è stato chiaro il modello invece è ben chiaro e l'ho analizzato appunto in quella che era la nostra seconda seconda argomentazione infatti dicevamo con questo arrivo a chiarire anche la situazione della graduatoria della classifica di Spotify che forse non vi è stata chiara riguardo alla meritocrazia parlavamo di una graduatoria di quella che già esiste di professori per riguardo l'assegnamento delle cattedre e non riguardo il rapporto fra docente e professore quindi una meritocrazia in quel momento per favorire i professori ecco invece per quanto riguarda il modello noi abbiamo appunto portato un modello validissimo magari rispecchiando dei importanti criteri di valutazione o delle domande che venivano poste appunto alla famiglia come per esempio ritorno torno a ribadire come torna il proprio figlio quindi da un punto di vista morale oltre che oggettivo perché appunto la famiglia deve avere una visione ampia visto che noi torno a ribadire visto appunto ciò che avete detto anche voi torno a ribadire appunto questo avvicinamento della scuola e questa collaborazione della scuola e quindi una visione ampia della famiglia che non deve andare a favorire solo il proprio figlio i point of question ho ben tre e io ho scelto tre parole chiave la prima è valutazioni la seconda è rapporto studente-professori e la terza è conseguenze per quanto riguarda le valutazioni loro diciamo appunto che non hanno le famiglie gli studenti non hanno studiato pedagogia non possono appunto avvalersi di questo di questo privilegio della valutazione beh però abbiamo assolutamente ragione abbiamo vinto questo punto di scontro proprio perché con la valutazione la famiglia si avvicina sia la famiglia sia lo studente al professore in questo rapporto di collaborazione fino ad arrivare a quella figura che avete voi stesso citato del professore che prende per mano il professore il docente che prende per mano lo studente e lo accompagna nel suo processo di vita per quanto riguarda invece il rapporto studente-professori loro volevano tenere separati questi due mondi ed è una visione assolutamente sbagliata che non permette la crescita di nessuno dei due delle controparti invece per quanto riguarda le conseguenze loro hanno parlato solo di conseguenze negative caotiche e così via noi siamo stati più oggettivi perché abbiamo valutato non solo le cose che potevano andarci a genio non solo le cose che potevano favorirci ma per esempio anche si poteva verificare una situazione d'anarchia e noi abbiamo smentito visto appunto l'accrescimento del senso critico il senso di civiltà è il buon senso di famiglie studenti e docenti al fine di rafforzare avvicinarle e creare un rapporto di collaborazione visto che sono state appunto motivate dalle nostre forti tornerie a sostenere argomentazioni argomentazioni che invece sono venute a mancare nella squadra contro ecco perché noi siamo fermamente convinti che questa assemblea debba che questa assemblea appunto creda che gli studenti e le famiglie debbano valutare il lavoro dei docenti vi ringrazio nuovamente tempo 4 minuti e 20 secondi a